La regione quando ha avuto conoscenza di queste informazioni che un po' circolavano nel mondo delle aziende sanitarie ha avviato subito una ricognizione delle proprie aziende con i propri direttori generali per conoscere in dettaglio qual è la posizione rispetto al tema del collocamento a riposo per ciascuno dei direttori generali di tutta la regione Veneto. L'aconico il direttore generale della sanità del Veneto sulla vicenda che potrebbe coinvolgere e stravolgere le aziende sanitarie della nostra regione. Quando avremo acquisito le risposte valuteremo anche quali sono dal punto di vista legale le ricadute e le singole prestazioni. Risposte assicura Flor che arriveranno in breve tempo già la prossima settimana. Tutto parte dall'inchiesta avviata dalla Corte dei Conti sul caso di Giampaolo Stopazzolo, vicentino ma direttore generale dell'azienda di potenza. La questione è tanto semplice quanto complicata se fosse accertata. In pratica nelle ore scorse sotto la lente di ingrandimento è finita la posizione di Stopazzolo. A suo carico è stato aperto un fascicolo per danno erariale perché ricopre il ruolo di vertice dell'Ulse Lucana nonostante sia in pensione come medico sommando dunque le due retribuzioni. Un vero uragano che ha messo in allerta il Veneto. Almeno sei potrebbero, perché incondizionale ed obbligo, finire in questo vortice. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, dell'Ulse 2 Trevigiana, Francesco Benazzi, dell'Ulse 3 Veneziana, Edgardo Contato, dell'Ulse 8 Berica, Maria Giuseppina Bonavina, il direttore della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Francesco Cobello, persino lo stesso Luciano Flor, il vertice della sanità regionale, ed altri numeri 2 e numeri 3 delle aziende sanitarie della nostra regione. La questione gira tutto attorno alla pensione, se i direttori generali in quiescenza la percepivano o meno. Nel caso in cui l'incarico dirigenziale sia iniziato prima della sospensione, sarebbe possibile un cumulo che non ecceda i 240 mila euro. Ma il Consiglio di Stato, in realtà, dice altro nel prevedere questo caso specifico. Nell'ipotesi in cui venga conferito incarico a un soggetto ancora in servizio, per evitare illusioni al momento della collocazione in quiescenza, il rapporto deve trasformarsi in un rapporto a titolo gratuito. Cosa accadrebbe nel caso ci fosse questa situazione in Veneto? Sulla possibilità di eventuali commissariamenti o cambiamenti a vertici, il dirigente Flor frena. Non abbiamo ancora i dati e dobbiamo verificare attentamente ogni singola istruttoria. Una recente delibera della Regione Veneto, che porta a 67 anni l'età lavorativa per i dirigenti di area regionale, consente ai direttori generali in quiescenza di essere retribuiti per il loro ruolo di vertice, a patto di rinunciare alla pensione. Insomma, una questione tutta da chiarire.